Iniziamo allora l'argomento, perché qui il sindaco Sala dice che sarebbe una sconfitta anche dei club quello di lasciare Milano, insomma, io non so che idea vi siete fatte, io comincerei anzi le parole esatte di fare lo stadio fuori Milano sarebbe un errore clamoroso, dicono Santini, tu che sei milanese, insomma, hai visto San Siro anche evolversi nel corso degli anni, poi si è bloccato poi San Siro. Dunque rimane l'appeal di questo monumento del calcio, le targhe con tutte le coppe dell'Inter e del Milan, la grande Inter e il grande Milan, però i tempi sono cambiati e l'attendismo, la burocrazia, il non agire che ha mostrato il sindaco Sala e porta le società a guardare, a risolvere i loro problemi. Perché l'Inter andrebbe a Rozzano e il Milan andrebbe a San Donato milanese. Ma dico ragazzi, mi rendo conto, certo dopo diventa il tempio della musica, insomma ci deve essere una trasformazione. D'altronde bisogna pensare che il calcio è cambiato, che le squadre fanno parte di società che devono avere dei fatturati e oggi avere lo stadio di proprietà ti garantisce un certo fatturato. In Italia ce l'ha la Juventus e l'Udinese e l'Atalanta. Fine! E' assurdo che le due grandi milanesi non ce l'abbia. Abbiamo il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, che saluta e ringrazia. Buonasera sindaco, bentornato a Nova Stadio questa volta con audio e video. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a voi e grazie per avermi interessato. Guardi, io le faccio ascoltare in diretta, lei e a tutti i telespettatori naturalmente, anche a voi ospiti che siete qui. Le parole dell'amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello, oggi sulla questione stadio. Vediamo il servizio e il contributo numero uno. No, in questi quattro anni abbiamo lavorato duramente per cercare di finalizzare un progetto per far sì che sia Inter che Milan potessero continuare a giocare a Milano e a San Siro. Chiaramente in questi quattro anni abbiamo dato spazio a tutti gli interventi da parte dell'amministrazione comunale che ha chiesto modifiche al nostro progetto. Oggi ci troviamo di fronte a quello che potrebbe diventare un ostacolo insomontabile che è il vincolo sul secondo anello. Quindi, ripeto, la volontà dei club era quella di perseguire un progetto importante all'interno della città di Milano. Se questo non è possibile, noi non possiamo fermarci. Abbiamo una competizione nei confronti dei grandi club europei che non ci permette di rimanere indietro e quindi dobbiamo cercare soluzioni alternative. Sindaco, allora, intanto a che punto sono le discussioni con la società Inter, tra lei e la società Inter? Guardi, noi abbiamo incontrato la società Inter qualche mese e mezzo fa, più o meno. Abbiamo approvato il PGT all'inizio di ottobre e in quella seduta abbiamo accolto un'osservazione della proprietà che ci chiedeva di inserire la parola stadio tra le possibili costruzioni di quell'area. Abbiamo, come ho detto prima, approvato il PGT e diventerà efficace entro la fine dell'anno per cui quello che il Comune doveva fare l'ha fatto. L'Inter ha un accordo di prelazione con la proprietà per l'area che scade il 30 di aprile e entro quella data dovrà presentare uno studio di difattibilità se realmente è interessata a costruire lo stadio a Rozzano. Setta, Sindaco, intanto le chiedo un parere su alcune dichiarazioni del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di qualche giorno fa, non sono recentissime. Comunque fare lo stadio fuori Milano sarebbe un errore clamoroso perché è ingestibile. Si stanno raccontando anche un sacco di frottole. Io penso che la parola ingestibile riguarda l'ordine pubblico e tutte queste situazioni, la viabilità. Credo che sia questo il riferimento. Vuole rispondere al Sindaco Sala su queste dichiarazioni? Non voglio assolutamente polemizzare col Sindaco di Milano, ci mancherebbe. Rozzano è diventata un'alternativa. Non è che Rozzano è andata a proporsi per tirare via le squadre o la squadra alla città di Milano. Si sono rivolti a noi e noi abbiamo dato ampia disponibilità. Poi, che non sarebbe il primo stadio fuori da una città importante e per quanto riguarda l'ordine pubblico, l'ordine pubblico è garantito dallo Stato. Per quanto riguarda la viabilità, noi abbiamo 50 agenti di polizia locale. Se mai dovesse concretizzarsi la costruzione, sapremo organizzarci. Vuoi assumendo nuovi agenti, che servono sempre, o facendo convenzioni con i comuni limitrofi. Comunque sarebbe gestibile nella maniera più assoluta. Non sarebbe assolutamente un impedimento. Immagino che comunque anche voi, ai stessi club, cerchiate una risposta nel giro di breve tempo. C'è una deadline? Avete discusso di un... Parliamo fino a un certo periodo, poi stop? Oppure più si dilata il tempo, più va a vantaggio vostro questa situazione? Sicuramente più tempo passa e diciamo più rimangono residuali le possibilità che le società rimangano a Milano. Poi una deadline è dettata dalla prelazione che scadrà il 30 di aprile. Molto chiaro. Qui in studio ci sono tutti i colleghi che vogliono fare una domanda. Vincenzo Matroni intanto. Buonasera Sindaco. Sindaco, per esperienza le dico che ovunque una squadra vuole fare un campo di calcio esce sempre fuori un comitato del no. Cioè, ho l'ambientalista, il comitato del no uscirà sempre fuori. Vuole dirci, io ho ben chiaro, ma vuole dirci anche lei i vantaggi che possa avere un cittadino ad avere uno stadio, anche economici perché gli oneri di urbanizzazione di uno stadio portano tanti soldi a un comune che se poi li sfrutta bene ricade in vantaggio per i cittadini. Allora sì, lei dice assolutamente bene, il comitato del no è onnipresente, però noi abbiamo fatto presente, scusate il bisticcio di parole, che su quell'area comunque esistono diritti edificatori datati 1993. Con questo PGT che abbiamo approvato ad ottobre li abbiamo ridotti, comunque rimangono diritti edificatori importanti, per cui la scelta è tra due tipi di edificazione. Una che riguarderebbe residenze, quindi con l'arrivo di circa 4-5 mila persone, uffici, attività commerciali, quindi un impatto 7 giorni su 7 su tutto, su traffico, viabilità, servizi, scuole, sanità e quant'altro. E l'altra è l'opportunità di uno stadio che nella migliore delle ipotesi impatterebbe 30 giornate l'anno. È vero che lo stadio avrebbe comunque bisogno di un adeguamento forte e importante dei trasporti e della viabilità, ma sicuramente un progetto così importante prevederà adeguamenti che riguardano appunto traffico e viabilità, trasporti e quant'altro. L'impatto sulla città, come dicevo, è senz'altro positivo. Vuoi perché quell'area sarebbe praticamente utilizzata 30 giornate l'anno e poi per tutto l'indotto che questo creerebbe sia durante il periodo di costruzione che dopo una volta che gli eventi si potranno sostenere. Sindaco, le faccio ascoltare anche le parole del Presidente della Lega Casini, Presidente della Lega Serie A naturalmente, proprio sulla questione stadio Milano. A questo punto dovremmo dire stadi Milano, visto che si parla anche naturalmente di quello nuovo delle Milan. Eccolo qui, il Presidente della Lega. Per me vanno aiutati gli amministratori locali, cioè gli amministratori locali in realtà, guardiamo anche il Sindaco della Firenze, aiutano il più possibile poi la realizzazione dello stadio. Il problema è che ormai gli stadi vanno riconosciuti opere di interesse strategico nazionale e non è il livello comunale quello in grado di risolvere tutti i problemi che pone la realizzazione dello stadio. Per questo il governo deve aiutare. Ma per lei sarebbe un errore se Inter e Milan vanno fuori dal confine cittadino? Non spetta a me vederlo, questa è una valutazione che può portare problemi organizzativi non indifferenti, però sono valutazioni che competono a Inter e Milan e poi l'amministrazione locale e speriamo il governo che aiuti le squadre e i comuni a realizzare stadi all'altezza del Paese. Come vuole commentare, Sindaco? Ma guardi, io sono d'accordo. Se siamo arrivati a questo punto è perché evidentemente le interlocuzioni, come diceva la D'Antonello, non hanno portato a nulla fino ad oggi. Rimango convinto che comunque Milano non sia fuori dai giochi, anzi bisognerà capire i tempi a disposizione se consentiranno quello che è un'idea dell'Inter, quindi di giocare la prima partita del 28-29 nel nuovo stadio. Buonasera Sindaco, faccia capire a me che sono un po' ignorante, qual è la cosa principale laddove si fa? Allora dice facciamo lo stadio a tutte le autorizzazioni, qual è la prima cosa che lei farebbe? Chiaramente la prima cosa da fare, come dicevo prima, è adeguare la viabilità e adeguare i trasporti, perché pensare di inserire uno stadio in un contesto... Sano o sì, non mi ricordo più. Ad Assago. A Sago arriva la metro, no? No, è Rozzano, il comune è Rozzano. No, no, la metropolitana chiedeva. No, la metropolitana. La metropolitana e il capolinea arriva ad Assago e praticamente rimarrebbe sempre con i sé a circa 7-8 minuti a piedi da quella che è l'area individuata per costruire lo stadio. Quindi, però anche la metropolitana, secondo me, potrebbe essere un tema di valutazione e farla arrivare anche a Rozzano. Quindi sicuramente la prima cosa da fare, ma è chiara anche all'Inter, perché sono gli argomenti che abbiamo toccato sin da subito, la viabilità e i trasporti. Lei non mi risponderà mai, però lei ha la sensazione che da qui a un anno dovrà parlare con un'altra proprietà, con altri forse dirigenti addirittura, perché la questione è in, si sa, insomma, c'è un'offerta che Zhang pare non stia valutando, comunque c'è questo prestito da restituire a Oktri con delle scadenze particolari. Lei ha la sensazione che prima o poi dovrà parlare con qualcun altro? Magari con un finlandese. No, no, quella è un parvenu. È una provocazione, forse, oppure no. Posso dire da tifoso? Da tifoso, secondo me, se si arriverà a parlare con qualcun altro lo si farà quando ci sarà il progetto definitivo dello stadio. Rozzano, Milano, San Donato, non lo so, però questo credo che stiano facendo. Molto bene, io ci ho provato. Bravo, ma ti ha risposto. Ti ha risposto molto bene, ci ho provato e ha risposto. Grazie Sindaco che mi ha risposto simpatico. Prego, un'altra domanda, poi liberiamo il Sindaco. Alessandro Michetti, sono prima di tutto tifoso juventino, però porto una testimonianza che porta a dire che Rozzano è forse il punto giusto dove andare a costruire lo stadio, perché lo stadio della Juventus che io frequento una volta alla settimana, almeno in questo periodo solo una volta alla settimana, è fuori Torino, a Venaria. E per quanto riguarda la viabilità, seppur è vero che lo stadio della Juve ha 42.000 posti, quindi non sono 60.000, ma quando tutti gli occupanti dello stadio, come tifosi, escono e si recano alle proprie autovetture o comunque ai mezzi di trasporto per tornare a casa, non c'è mai, 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 per qualunque tipo di partita alcun tipo di ingorgo. Io esco dallo stadio alle ore 10 meno un quarto e alle ore, a mezzanotte meno un quarto, scusate, alle 11 meno un quarto, a mezzanotte meno un quarto sono a casa, cioè un'ora dallo stadio della Juve a Milano. Vado a vedere Milan-Juve o Inter-Juve a San Siro, a mezzanotte sono ancora nel parcheggio, non sono uscito ancora dal parcheggio. 40.000 persone, l'Inter li fa in allenamento. Sì, vabbè, 40.000, 70.000 è vero, tutto quello che vuoi, però comunque stiamo parlando di venaria verso... La risposta del sindaco, così poi lo salutiamo perché è stato gentile a collegarsi per noi. La cosa dei parcheggi è fondamentale. Un attimo, un attimo. Sindaco. Beh, guardi, ha tocchiato il tema, io ho girato un po' per l'Europa e ho visitato alcuni stadi e comunque il minimo denominatore è quello che ha detto lei adesso. Finita la partita, code chilometriche per uscire e ritornare in città. Quindi forse il vantaggio di farlo fuori sta proprio in questo, perché è vero che sono 70.000 persone che si muovono, però è anche vero che è un traffico che non si sovrappone al traffico quotidiano, del mattino, del pomeriggio, delle ore di punta, eccetto forse quando si gioca alle 18.00. Per il resto si gioca alla 21, il sabato, la domenica e quindi con i dovuti adeguamenti non dico che si arriverebbe alla soluzione di Venaria, dove io non ci sono mai stato, lei dice che traffico non ne esiste, magari, però sicuramente si può smegire. L'autostrada praticamente, c'è lì l'autostrada vicino e anche Rozzano avrebbe comunque... C'è quel pezzo lì all'uscita che si ingorga anche in settimana, alle 5 lì è tutto bloccato, Quindi ci sono da fare dei lavori importanti per la viabilità di Rozzano. Va bene Sindaco, allora nella miglior... Il momento è assolutamente imprescindibile. Assolutamente, sì. Sindaco, la miglior dell'ipotesi è il 2028? Così hanno nelle loro idee gli amministratori dell'Inter, giocare la prima partita nel nuovo stadio, il 2028-2029. Poi, io mi auguro che possa succedere a Rozzano, però Rozzano allo stadio non l'ha mai avuto, se non dovesse ricadere su Rozzano la scelta, eh vabbè, mai l'abbiamo avuto, mai lo avremo, nessun problema. Lei ci ha provato. Comunque è Rozzano in promozione. Rozzano in promozione. C'è il mister che si candida. Per la partita inaugurale le mandiamo Enzo Gambaro, eventualmente così facciamo i collegamenti da Rozzano. Va bene, grazie al sindaco Ferretti, in bocca al lupo, buon lavoro, a presto. Buonasera. Grazie a voi, buona serata. Grazie a tutti. E sarà un argomento caldo. Posso dire una cosa? Mi dica Enzo Gambaro, mi dica. Allora, è chiaro ed evidente che Milan e Inter sono club di livello mondiale e quindi a prescindere da San Siro, rimanga o non rimanga, comunque sia una delle due, una delle due è costretta ad andare fuori Milano. Se si vogliono dare una dimensione vera, perché Inter e Milan devono avere uno stadio proprio di proprietà. È impensabile che si dividano lo stadio di San Siro, altrimenti purtroppo sarebbe sempre un limite troppo importante con il resto del mondo. Io posso parlare dello stadio del Milan che so moltissimo, quello dell'Inter non so niente. Chissà perché. No, perché seguo più il Milan, ho parlato un anno fa con Furlani. Allora, secondo me il sindaco ha centrato tutto, tranne, non so se la mentalità dell'Inter è uguale a quella del Milan. Il Milan non vuole fare uno stadio di quelli tipo della Juve o di quelli che voi in Italia avete già visto tutti. No, vuole fare un qualcosa di totalmente nuovo. È uno stadio che vive tutti i giorni e non vive solo il giorno della partita. Vogliono fare almeno 50 eventi oltre il calcio. Vogliono fare uno stadio che porta soldi. soldi vuol dire li porta di IMU al sindaco, tanto che il sindaco di San Donato, sono molto chiaro, con i soldi di urbanizzazione e di IMU può fare le strade d'oro, lo dico chiaramente. Cioè anziché il cemento ci può mettere l'oro e sia chiaro questo. Dimenteremo cercatori d'oro. No, perché il famoso comitato del no, però deve anche capire cosa porta in questo. E qualsiasi stadio, in qualsiasi parte di Europa si va, ad esempio il pulma turistico, passa sempre per lo stadio, quindi ti porta a vedere turisti tutto il giorno. Il Milan, qual è il primo problema del Milan? E' interesse della società che non ci sia il traffico, perché spiegava Furlani, a me e non solo a me, un annetto fa, che vogliono cambiare il concetto dello stadio. Oggi si va a San Siro e molte persone, se la tua squadra vince 2-3-0, vuole andare via 5 minuti prima per andare a prendere la macchina e andare via. Questo è il concetto che c'è oggi di stadio. Per evitare il traffico. Per evitare il traffico. Loro vogliono, vogliono fare uno stadio con addirittura vicino un parco tipo Legolandia o una cosa di questo genere, vogliono che tu allo stadio ci vai con tutta la famiglia, poi magari non entri con tutta la famiglia allo stadio, magari parte la famiglia in pizzeria e al centro commerciale vicino. Con la carta di platino però, tutto questo con la carta di platino. Ma non costruiscono con il leggo? No, no. Andiamo all'esterno. Andiamo all'esterno. Andiamo al cinema. Vabbè, però, il senso è un altro. Perché magari in pizzeria ci vai lunedì sera, la domenica per la partita, lunedì. Ad esempio, uno stadio che lui conosce molto bene è quello del Cardiff. Dentro ha la piscina e gli abitanti di Cardiff vanno in piscina tutti i giorni. Tu lo conosci bene. E' andato a Cardiff. No, non eri a Cardiff, però peccato. Va bene, allora direi di fermarci perché tra poco parliamo anche di quello che ha scritto il The Athletic, la stampa estera che sta bacchettando l'Inter. Record di debiti. Zang, tic tac, tic tac. Non le caramelle. Non le caramelle. L'oroggio che passa perché poi c'è anche questa situazione che riguarda l'Inter. Ma poi, Santini, me lo prometti, tutto mercato Inter? Qua c'è, sta succedendo l'ira di Dio, ragazzi. Ah, stasera. Attenzione agli arabi che vogliono tornare nel calcio che conta. Chiudiamo a luna di notte. Chiudiamo a luna di notte. Attenzione. T9 in diretta. Derby meno 4. Se è ancora un derby, lo chiediamo tra poco a Vincenzo Matrone, che quelli del Milan si sono arrabbiati. Ma quali derby? D'Italia, abbiamo 7 Champions, delle solite cose. Di cui parleremo tra poco. Non c'è un'esattezza, vabbè, derby d'Italia. No, aspetta, no, ed è tra poco. Tra poco. Fra poco, come vuoi tu. Intanto direi di guardare quello che scrive The Athletic, ripreso curiosamente da Tutto Sport. Che strano. Che strano. Ma guarda. Tic Tac, Inter, Zang, record, perdite, debiti, Oc3 e 300 milioni. E quindi c'è appunto questo. Ma a parte che sono di più, sai? Con gli interessi deve rendere 340-350 milioni. Forse sono solo quelli i problemi. I cavi dell'Inter per l'ultimo anno finanziario ammontano a 425 milioni con un aumento di circa 60 milioni, escluso lo scambio di giocatori. L'Inter è incassato quasi 100 milioni di euro di introiti televisivi dalla UEFA, si legge. Ma la domanda che si pone di Athletic è, in una stagione in cui quasi tutto è andato bene in campo e l'Inter ha vinto la Champions League per la prima volta in 13 anni, il club ha comunque perso 85 milioni di euro. Una cifra sbalorditiva e se questi sono i soldi che l'Inter perde in una stagione straordinaria, che succederà in una stagione ordinaria, si chiedono e poi evidentemente... Non è che posso entrare in discussioni economiche, però non è che hanno... Ma cosa hanno scoperto? Cosa hanno scoperto, Luciano? Eh non lo so. Cosa hanno scoperto? L'Inter deve rendere a OCTRI il debito più gli interessi. Se lui riesce a rinegoziare, ce la può fare. Se no, ci sono due fior di banche d'affari che stanno lavorando per vendere l'Inter. Ma mica te lo vengono a dire giorno per giorno quello che stanno facendo. Finisco, il finlandese che parla, che dice che è un parvenu, perché chi fa questi lavori, chi fa queste operazioni, fa una cosa fondamentale, sta zitto e fa. Io se fossi un tifoso dell'Inter, fortuna non lo sono, sarei preoccupato di una cosa. Tanto sarei sempre più in classifica. Sarei preoccupato dal fatto che quando è entrato l'Inter nel calcio italiano, è entrato a gamba tesa con tanti soldi, ma questi soldi li ha portati papà Zhang e ha messo là il figlio giustamente per gestire. Per l'immagine, avendo tante cose da fare, ha detto vai tu a rappresentare la famiglia. Forse è vero che io mi occupo veramente poco di Inter, ma io non sento più la voce di papà Zhang. Cioè ora, e questa è la cosa che un po' più mi preoccupa. Io non lo so, non voglio dire cose che non conosco cose, però io ritengo sempre che il vero proprietario è papà Zhang, il presidente e il figlio, però io mi aspettavo, non so, l'Inter in finale magari vedi papà Zhang, cioè la finale di Champions, vederlo una volta in Italia, fare una conferenza stampa dalla Cina dove magari spieghi nuovi progetti. Questo silenzio totale non è nello stile dei cinesi, matrone. No, no, no. Però all'inizio era nello stile, perché quando ha preso l'Inter e ha messo tantissimi soldi, io mi ho sentito di dichiarazioni del papà Zhang. Loro si volevano espandere anche nel mercato europeo. Ma lo so, lo so. Poi hanno avuto tanti problemi e non solo dovuti a loro, perché loro pagano moltissimo il crollo. Il crollo, no, guarda il covid. Il crollo dell'azienda costruttrice numero uno in Cina, Evergreen, che è 3 miliardi di euro. Però capisci una dichiarazione del papà Zhang che dice non preoccupatevi, a maggio una soluzione, e noi in un modo la troviamo, capisci che ha una valenza, non dico tre ore di conferenza, un video che ti dice sono Zhang, quello che ha messo tantissimi soldi e che ha fatto sì che la Juve vincere il campionato da nove anni, è entrato, poi vi dico perché adesso siete più amici voi dell'Inter e della Juve di quanto lo sia il Milan, è entrato in un modo che dopo lo spieghiamo e non lo sento proprio più. Patrone, guarda, intanto bisogna dire le cose come stanno un mese e mezzo fa, il governo cinese ha deciso di aiutare le grandi aziende, aiutare finanziariamente ovviamente, le grandi aziende che hanno avuto seri problemi, Alibaba per esempio, Zhang, Suning che era il colosso come dire delle vendite di elettrodomestici, televisori, una sorta di media world, ma molto più grosso, molto più grosso. È andato in crisi, bene, il governo ha deciso di aiutare, ricordiamo che Papa Zhang è il numero due della politica cinese e questo è il loro modello di espressione. Forse dobbiamo dare credito a Marotta oggi quando dice guardate che noi nel modello di gestione siamo solidi. Ecco, detto questo noi sappiamo che a maggio, se lui non paga quei debiti con gli interessi, vende! Contributo numero 5, tra poco il mercato in diretta dell'Inter, naturalmente però chiudiamo l'argomento con le parole di Marotta di ieri su Zhang, contributo numero 5. Spiego semplicemente, io confronto quasi quotidiano con il Presidente che è molto attento alla nostra storia, al nostro presente, al fatto di poter dare anche lui da lontano un contributo importante a quello che è la gestione quotidiana sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista, diciamo, di gestione ordinaria. E posso garantirvi che lui è un grande appassionato, ha voglia di rimanere e non ci sono sintomi particolari in questo momento che le pongono sfavorevolmente. Noi siamo molto contenti di lavorare con lui, di lavorare con la famiglia Zhang perché, ripeto, ha profuso consistenti investimenti negli ultimi 5-6 anni e quindi diciamo che oggi siamo una società solida, vogliamo cercare di toglierci e dare ai nostri tifosi altre soddisfazioni come abbiamo fatto in questi anni. Parole chiare ed evidenti, Ruggero, sì. Qui si parla tanto del debito di Zhang verso Octree di 300 e passa milioni, ma quello che ha lo zio Jerry Cardinale verso Elliot di 600 e passa milioni, che cos'è? No, ma non è un debito. Non fare confusione. Non è un debito. Non è un presto. E te lo spiego perché. È un presto. Perché Cardinale... E quindi? No, allora, la differenza grande è questa. Il fondo Elliot ha vinto uno scudetto con il Milan, ok? Il fondo Elliot ha vinto uno scudetto con il Milan. Qualora Cardinale dovesse non pagare il debito, ritorna a fondo Elliot, che ha dimostrato già in Italia di vincere. Ecco, ma vale anche per l'Inter. L'Inter passa a Octree, ok? L'Inter passa a Octree, ok? Non ha dimostrato niente. Ah, ho capito, però. Si vende a 48 ore. Aspetta. No, però qui il concetto della differenza dei soldi che deve dare l'Inter a Octree e Cardinale a Elliot. No, ma... Perché se il Milan tornasse a Elliot, direi Steve, vabbè, è tornato al fondo di prima. Quello di l'Inter passa a un fondo nuovo che non ha vinto. Ma non è che cambia molto, eh? No, cambia tantissimo. Perché, ripeto, ai tifosi del Milan, se dovesse andare ad Elliot, sono contentissimi. Ma perché già conoscono Elliot. Cioè... Sì, ma non so quanto Elliot, scusa, sia contento di riprendersi il Milan. Poi magari lo rivende. Sì, ma guarda che il Milan... Ma anche l'Inter a Octree non sappiamo come lavora. Octree? A drive in... chi vuole l'Inter? Ma ragazzi, il fondo ha un compito, trovare... Scusate, non puoi paragonare una cosa, perché in questo non avete raccontato una situazione e entra dentro, perché il governo cinese vuole che il calcio in Cina diventa qualcosa importante. Certo. Ricordiamoci che Zhang ha aperto una squadra in Cina che è fallita. No, 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 no. Ha vinto il campionato e è fallita. Non è che è fallita. Che dopo aver vinto il campionato l'ha praticamente... Chiusa. L'ha chiusa. Allora, non facciamo paragoni conondo Elliot, che è uno dei fondi più importanti al mondo. Ma ma siete fuori strada. Il governo cinese ha detto che il calcio è un argomento superfluo. Eh, ok. E quindi... Scusate. Volevano fare il mondiale 2050 e poi sono disinteressati. Siete fuori strada. No, ma allora... Dimmi, perché poi vuoi sentire a Santini perché sono fuori strada. Le due situazioni. Quella dell'Inter, l'abbiamo già raccontata, la conosciamo. Ci sono questi 300 milioni, che poi diventano 340, di debiti con OCTRI che evidentemente se ci fosse ancora l'appoggio e il supporto di Papa Zango, comunque di una società solida alle spalle, che comunque fosse nella condizione di investire in Europa, questi 300 milioni li ripianavi in un attimo. Senza dubbio. Il problema è che non sono più nelle condizioni di farlo e questi 300 milioni diventano un macchino e saranno probabilmente il modo per rientrare di qualche quattrino, perché il problema è questo, che Zhang vuole vendere l'Inter a un miliardo di euro e non trova l'acquiretto. Miliardo e due. Una volta ripianato il debito si vuole tenere in tasca qualcosa per riportare a casa parte dell'investimento che ha fatto e questa è una, e l'Inter la conosciamo. Quella del Milan è una situazione paradossale se ci pensi, perché come abbiamo detto tante volte, cioè Cardinale ha chiesto in prestito i soldi a Elliot per comprare da Elliot la società, che è una follia. È come dire che uno viene e deve comprare. È un'anomalia, non è un'anomalia. È una follia perché non si dice che non si dice che cosa ci sta. La follia è che abbia chiesto i soldi a Elliot, perché se l'avessi chiesto a un fondo, se l'avessi chiesto a una qualuncia... Ma perché c'è chi dice addirittura che se l'Inter dovesse passare a O3 sarebbe salva, perché passa il fondo di investimento, a questo punto il soldi di investimento la giustizia. Un attimo, però se no in 50 non si capisce nulla, a quel punto cercherebbe un venditore, cercherebbe... E al suo interesse non farà fallire. E al suo interesse non farà fallire. Però alt, perché intanto Marotta oggi ha fatto una politica, a oggi, che non è da fondo economico, perché il monte ingaggi dello stipendio dell'Inter non è da fondo O3 o Elliot. Parliamoci chiaro. Tu l'hai fatta sapendo che domani qualcuno mi compra. Chi se ne frega? Prattesi lo pago fra due anni, chi se ne frega? Pavà lo pago fra un anno, chi se ne frega? Però il monte ingaggio dell'Inter, se avessi avuto il fondo O3, non so se ti avesse concesso andare a prendere il giocatore a 6 milioni e mezzo, a 7 o... Ha aumentato il monte ingaggio, ma ha aumentato in maniera esponenziale il valore della rosa, perché tu rama il marziero, se l'Inter mette troppo sul mercato, sono 50. E allora te li fa vendere, però domani te li fa vendere. Pavà sono 50. È aumentato il monte ingaggi, ma si è dimezzato il bilancio in negativo rispetto a prima. Sì, però c'è stata un'annata anomala con un debit di Champions a 11 milioni di incasso. Ora, giustamente come ti dice quel giornale, poi bisogna vedere se tutti gli anni sono uguali. Però sono due situazioni differenti. Santini, dimmi la tua... Non voglio tediare con cose astruse, finanziarie, eccetera. Allora, O3 è creditore di una cifra elevata, perché fra l'altro ha applicato degli interessi pazzeschi fuori mercato. Bene, in questo momento Zhang quella cifra non ce l'ha, sta cercando di rinegoziare. Perché, com'è nello spirito dei cinesi, vuole due certezze prima. Una, poter vincere un grande trofeo, che è la Champions, l'altro avere la garanzia dello stadio. Fermi. O3 ha delegato due banche d'affari, Raine e Goldman Sachs, che hanno già chi vuole comprare l'Inter. Il problema è che Zhang non vuole vendere in questo momento. È vero, un miliardo e due, un miliardo e tre. Qualcuno dice che addirittura PIF, cioè il fondo famoso arabo, potrebbe offrire un miliardo e mezzo. Sono cifre buttate lì. La vera verità è questa. Che potenziali acquirenti ci sono? E' chiaro che non intendono comprare alla cifra che vuole Zhang, ma soprattutto Zhang non vuole vendere in questo momento. Arriverà al dunque, in 21 di maggio 2024. Raccontata così è una follia, perché io, per poter vendere l'Inter, devo essere sicuro di rinegoziare il debito. Che se io non sono sicuro, dopo l'Inter, te la comprano a zero. Però posso dire una cosa? Allora, se con lui è sicuro di rinegoziare, altrimenti non puoi fare la voce grossa. È come un parametro zero dopo. Il sindaco di Rozzano va risposto. Zhang venderà quando ha la certezza. Certo. Quando ha lo stadio, e così l'Inter ha ancora più valore. L'Inter è gambolo. Quindi dobbiamo l'argomento e passiamo al mercato dell'Inter invece. Sempre vivo, sempre attivo. È chiaro ed evidente. Vale per l'Inter, vale per il Milan. E' un'unica che stiamo a parlare di un miliardo, due miliardi, tre miliardi. Cioè, se non c'è un progetto, stadio, nuovo, già chiuso e definito, quindi con la massima certezza che verrà realizzato, non si potrà vendere nessuno di questi club. Perché nessun pazzo ti compra una squadra del genere o un club del genere se non c'è già uno stadio già definito, voglio dire. Quindi, credo che un miliardo e due possa essere anche poco, a patto per l'Inter e anche per il Milan, che ci sia uno stadio già ben chiuso con il progetto. Se no, non ha senso effettivamente. Giustissimo. È quello che dicevo io. Torniamo con il calciomercato con il nostro Fabio Santini a tra pochissimi. Carta bianca, Fabio Santini. Vai tu. Derby d'Italia con, devo usare questo gioco di parole, con obiettivi italiani sia da parte dell'Inter sia da parte della Juventus. Vediamo i nomi. Buongiorno Scalvini, Colpani, Turati e da oggi c'è anche uno non italiano che è Damar. 19 anni, centrocampista offensivo di proprietà dell'Hoffenheim in prestito alla Nuover e già nel giro dell'Under 21 di Germania e della Germania della Nazionale Superiore. Buongiorno. Piace da morire, piace da morire l'ultima, cioè la prestazione che ha dato accanto a Cerbi è stata strepitosa. Cairo dice guardate che io lo tengo e gli faccio il rinnovo del contratto fino al 2028 per alzare il prezzo. Ma attenzione, perché la Juve sta mirando a un'operazione tipo Bremer. Scalvini, l'Atalanta fa sapere che non è più 40, ma 50 milioni, contratto fissato al 2027. Colpani è il più facile, forse l'Inter è già a cavallo su questo giocatore a 20-22 milioni di euro. Turati, il portiere che ha preso il gol da 50 metri del Frosinone in prestito dal Sassuolo, però continua a piacere. Tifoso dell'Inter, tifoso dell'Inter. Si è visto durante la partita che era tifoso dell'Inter. Come Walter Zenga. L'abbiamo notato. Come Walter Zenga. Ho detto questo, attenzione, qui non c'è il nome, ma in un'operazione complessiva Inter-Atalanta l'Inter potrebbe anche lavorare forte su carne secca. E poi c'è questo Damar, che non è italiano ovviamente, che però piace molto e piace molto a tante squadre anche tedesche. C'è da dire che l'Inter e l'Inter sono le squadre più imbottite di italiani. Se vuoi ti do gli obiettivi di Juventus. Dopo, dopo. La Juventus, grazie soprattutto al settore giovanile, l'Inter invece è un lavoro di acquisti che è stato fatto in questi anni. Aggiungo che nell'eventuale acquisto di Colpani, secondo me, potrebbe rientrare Sensi al Monza. Sì, sì, sì. Allora, Sensi, secondo me, è un giocatore che in nazionale al posto di Giorginio, se fosse nelle condizioni, sarebbe l'ideale. Detto questo, sono rimasto bene impressionato dalla personalità, non tanto dagli avversari che ha affrontato, ma sicuramente buongiorno. È vero? È un giocatore che ha dimostrato di avere personalità, chiaro e evidente, bisogna poi vederlo contro degli attaccanti veri perché loro non ne avevano e poi faccia a faccia contro avversari di livello europeo importante, lo so, dovrà valutare, ma al momento è il miglior prospetto in Italia. Intanto aggiungo io che il Fio di Galliani ha parlato dell'eventuale cessione di Colpani, aspetterei a dare tutti come partenti del Monza, è una situazione diversa da Carlos Augusto perché Carlos Augusto andava in scadenza di contratto e ci ha chiesto di giocare la Champions League. Queste le parole... Ma perché Colpani non gli ha chiesto, nooo... Io riporto le parole... Però attenzione, scusate, perché questa è la notizia bomba di oggi. Allora, c'è un malcontento spaventoso dei grandi nomi del calcio che conta e che sono emigrati in Arabia Saudita per i treni, i vagoni di milioni di dollari che gli dà. Noi siamo ancora qua, infatti, a Milano. No, siamo ancora qua perché abbiamo resistito. Abbiamo resistito. Cambaro, Cambaro, Cambaro. Allora, attenzione, l'Inter può cedere sensi, sicuramente c'è stato un contatto di nuovo tra Milinkovic-Savic e Simone Inzaghi. Milinkovic-Savic percepisce 10 milioni l'anno. È una cifra che non se ne può parlare neanche, ma non vuole più rimanere lì. Si parla, però anche qui è un po' fantacalcio, un po' sicuramente non c'è stato il tempo di poter trovare il riscontro, di un passaggio a prestito di Milinkovic-Savic a gennaio all'Inter con metà dell'ingaggio che verrebbe pagata direttamente dalla rabbia. Vediamo cosa succede. Una cosa vi do per certo, per esempio, che Newcastle è pronto a fare una mega offerta per prendere Benzema e CR7 e portarli all'ospizio. C'hanno 90 anni in due. Ho capito, il malcontento dei grandi, finisco caro Matrone, il malcontento dei grandi fa rizzare le antenne alle nostre. Sui contratti che sono stati fatti, che probabilmente ne faranno ancora, secondo me entro un anno e mezzo salteranno molti contratti in Arabia Saudita e molti dovranno tornare, non perché non gli piace il calcio lì, che con tutto il rispetto io faccio fatica a vedere le partite del campionato italiano, figurati se mi metto a guardare le partite del campionato d'Arabia, con tutto il rispetto. Potresti andare a giocare tu, ma non ci penso nemmeno. Gairo ti ringrazia. No, 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 attenzione, massimo rispetto di tutti, sia chiaro, grande nazione, tu quello che vuoi, hanno petrolio tra le parti, ma a livello calcistico credo che probabilmente potrebbero saltare parecchi contratti. Però la riferenza con la Cina è che l'Arabia ha già un mondiale, già segnato, un mondiale invernale. Io sono commosso di tutto ciò, però abbiamo citato Colpani, abbiamo citato Scalvini, abbiamo citato tutti questi nomi, mi parlate degli arabi, tra l'altro lì schiava di saltare il campionato arabo, i contratti del campionato arabo. Sono nomi, è giusto puntare sui italiani, Ruggero, quello che abbiamo sentito, l'idea di Marotta è quello di puntare sui italiani. Sì, sì, l'Ital-Inter. E fosse Spalletti, con tutto rispetto per il mister Luciano Spalletti, se rivedesse un po' il suo sistema di gioco e si affidasse al blocco Inter in nazionale, quindi difesa tre, che ha fatto la finale di Champions, i due quinti di Marco e di Lorenzo. Mezzo al campo, Barella, Frattesi e metti chi vuoi come playmaker. E davanti fa due punte, Raspadori, che potrebbe essere un Lautaro, e Scamacca la Turam. Secondo me l'Italia, secondo me con questa squadra non particierebbe neanche al mondiale sulla spiaggia di Copacabana. Dai ragazzi, per favore, dai. Ok, chiesa Scamacca. È normale che se io dovessi parlare da tifoso, a me piace vedere una squadra egoisticamente di tutti gli italiani, anche se la squadra che è nel cuore di tutti gli interisti è quella con tutti i stranieri, quella è il triplete. Detto questo, però se io mi metto nei panni di un presidente di una squadra e mi chiedono 50 milioni per Scalvini, io ti dico non prendo più un italiano, scusate. Certo, 50 milioni per Scalvini, non voglio prendere più un italiano. Quindi bisogna stare attento perché a volte in Italia c'è questo cattivo costume che fai sei giornate buone e diventa 40-50. Già, 40, ti ricordi, Matrone? 40 a settembre, eh? Io mi ricordo quando il Mina voleva prendere Belotti, 80 milioni. Scusami, l'Atalanta però in questo momento non è una squadra che ha bisogno di vendere uno che ti fa una cifra alta proprio perché non ha nessun interesse per vendere. Se vuoi comprarlo, Napoli, Inter, MIA, non voglio rinforzare gli avversari. Ecco perché c'è questa valutazione di Scalvini. No, ma Scalvini, forse siamo stati i primi due anni fa a parlare di Scalvini. Attenzione, per me è uno dei prospetti migliori che ci sono in Italia, ma Scalvini sta giocando fuori ruolo. Sì, questo lo capisco, però stiamo parlando del giro. Sei l'unico che lo dice. Questo è fondamentale. Scalvini è un centrocampista difensivo. Ogni tanto si... No, perché come difensore, con tutto rispetto, neanche se me lo regalano lo voglio. Invece, dal centrocampista difensivo, è un grande calciatore. Tra l'altro c'è anche la questione Taremi per l'Inter, perché l'Inter intanto sta trattando, ne parlavamo pomeriggio, Taremi per gennaio e vuole bloccare a gennaio per giugno invece Tiago Jalò, che era stato al Milan nell'Under-19. Esatto, attenzione, Taremi, per l'ultima ora... Taremi non ha detto di tutti i colori il presidente del Porto su Milan. No, aspetta, il presidente del Porto fa una tattica precisa. Non vuole andare a muso duro contro i tifosi del Porto. E quindi dice, guardate che noi abbiamo offerto un rinnovo a Taremi a 10 milioni. Però lui non vuole firmare. Allora, ultima ora di un'oretta e mezza fa... Un'ultima oretta, quindi. Un'ultima oretta e mezzo. Oh, stasera picchi, mi picchi. Preso l'aspirina, sto meglio. Esatto. Allora, ultima oretta, Marotta è vicino a prendere Taremi in prestito con obbligo di riscatto per gennaio. Ora, non è detto che sia fatta, però l'operazione sta andando su questa direttrice. Ruggero, sei contento? Una cosa. Sì, Taremi è un buon giocatore. Credo perché Alexis Sanchez è molto vicino al campionato americano. Sì. Va via. E Arnautovic non dà delle garanzie. Certo. Taremi sarebbe un'ottima alternativa. Mi volete spiegare però una cosa? Perché se il Milan alla fine ha abbandonato Taremi... No, Taremi ne ha parlato oggi il Presidente del Porto, di Taremi del Milan, non parla di abbandono. Se devi parlare di Taremi-Milan lo facciamo tra poco. No, sto dicendo però, attenzione. Le commissioni probabilmente o eventualmente sono state richieste all'epoca, adesso si sono annullate? Tra poco ti farò sentire le parole del Presidente del Porto proprio sulle commissioni. Comunque io dico, mi hanno sempre sentito una cosa nel calcio. Andare a trattare con i club portoghesi e olandesi devi essere non preparato, molto molto di più. E siamo in pochi in Italia a potercelo permettere.